Il Signore ci insegna la strada del fare, non quella del dire, perché nel Regno dei Cieli entreranno coloro che hanno fatto la volontà del Padre, non quelli che si limitano a parlare. Lo ha detto Papa Francesco nell'Omelia alla Messa del Mattino a Casa Santa Marta, nella quale ha commentato il brano del Vangelo di Matteo e ricordato le figure dei chierici criticati da Gesù, che si vestivano da piccoli re e ai quali piaceva farsi vedere la vanità, il dire e non il fare. Quanti genitori si dicono cattolici, ma mai hanno tempo per parlare con i suoi figli, per giocare con i suoi figli, per ascoltare i suoi figli. Forse hanno i loro genitori in casa del riposo, ma sempre sono occupati e non possono andare a trovare i genitori e li lasciano abbandonare. Ma sono molto cattolico, io appartengo a quella successione. Questa è la religione del dire. Io dico che sono così, ma faccio la mondanità. Il dire e il non fare è un inganno che conduce all'ipocrisia. La misericordia del Signore va incontro a quelli che hanno il coraggio di confrontarsi con Lui sulla verità, sulle cose fatte e non fatte, per correggerli, perché il grande amore del Signore sta proprio nella dialettica tra il dire e il fare ed essere cristiano significa fare la volontà di Dio.